Il Miracolo del Delfino Il Miracolo del Delfino Il Miracolo del Delfino Casale 7 porta anche il gol che più che nell'aria era anche nell'acqua dei piani valentini. Sponda aerea di priori e Finizio sigla la più facile delle marcature. Casale 8 sembra gol ma non lo è quando Finizio fa partire un tiragiro che guarda molto da vicino il 7 marzicano, inteso come incrocio dei pali. Casale 9 con illusione ottica perché Finizio si smarca tutti, anche il sottoscritto, ma poi calcia malamente fuori dallo specchio della porta. Sorbetto Capistellano che ha sempre e solo il nome di Fischetti al tiro di punizione alzato da Opara quando eravamo al minuto 24 della ripresa. Casale 10 quando Budano ci dimostra che l'altruismo può essere molto deleterio soprattutto se ti trovi davanti al portiere avversario e il tuo compagno di squadra è in fuorigioco. Buon per il Capistrello che assiste impotente allo spettacolo ma non perdiamo il conto perché il Casale 11 porta Frani anzitempo negli spogliatoi e il solito Finizio sul dischetto per il 2 a 0 ospite al trentesimo del secondo tempo. Casale 12 vede di nuovo Finizio a tu per tu con Mario Di Girolamo che il suo lo fa. Al trentasettesimo intanto il giovane Antonio Di Girolamo cerca di emulare il padre ma non trova il pertugio buono. Ad Maiora 46esimo finalmente Casalbordino 13 affirma Cristan ci manda tutti a casa. Da Capistrello è tutto. Passo e chiudo.